ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata di patate alla grega il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono patate tagliate a pezzetti acqua feta greca prezzemolo cipolla limone olio sale pepe origano olive nere e pomodori tagliati a pezzetti diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e l'origano ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 6 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio il succo di limone il pepe e il sale ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 4 mettere da parte in una ciotola senza lavare il boccale mettere l'acqua il sale chiudere con il coperchio posizionare il varoma mettere le patate chiudere con il coperchio e cuocere per 35 minuti temperatura varoma velocità 2 le patate sono cotte trasferiamole in un insalatiera mettere il pomodoro le olive la cipolla la feta e il rogare con la salsa amalgamare con la spatola lasciare intiepidire prima di servire insalata di patate alla greca grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!